è ricominciato il festival di Sanremo la gara di musica estrema più popolare in Italia fra gli artisti in gara quest'anno ci seranno Horizon guarda che si dice Arisa Horizon ma è Arisa Horizon va bene così Sweet Blake ma chi è dolce nero? Fear Jack chi è? io e le storie tete e fra i tanti ospiti la waria pausinien e gli erosenn ramazzo taiten Sanremo il festival che non mancate